Quello che oggi sta su un dito, ieri occupava un intero campo da tennis. Quando vide la luce 50 anni fa, l'Elea fu il primo computer a transistor mai immesso sul mercato. Il simbolo di un'Italia creativa e operosa, seconda a nessuno nella corsa al primato tecnologico e industriale. E' il sogno divenuto realtà di un manipolo di giovani ricercatori che vi dedicò ingegno e passione. L'Elea, elaboratore elettronico automatico, fu presentato al pubblico nel 1959 alla Fiera di Milano. Era il guanto di sfida lanciato al mercato da Adriano Olivetti, primo imprenditore a comprendere appieno le potenzialità commerciali offerte dall'elettronica. Appena tre anni prima, il colosso di Ivrea, leader nel settore delle macchine da ufficio, aveva reclutato un gruppo di ricercatori per lavorare allo sviluppo del settore allora sconosciuto delle calcolatrici elettroniche. Passeranno la storia come i ragazzi di Barbaricina, dal nome del quartiere di Pisa, dove aveva sede la villa che li ospitava, trasformata per l'occasione in centro di ricerca. Sempre all'ombra della torre pendente, era già scoccata la scintilla dell'informatica italiana. Il progetto della CEP, la calcolatrice elettronica pisana, aveva dato alla luce il prototipo della macchina ridotta, il primo calcolatore elettronico mai costruito in Italia, e di lì a breve sarebbe giunto a compimento. La CEP, nata e cresciuta per essere al servizio degli scienziati, diverrà l'incubatore del primo centro italiano per lo studio delle calcolatrici elettroniche e del CNUCE, il principale centro nazionale universitario di calcolo elettronico, un'eredità oggi confluita nell'area di ricerca CNR di Pisa e nel corso di studi in informatica dell'Università Cittadina. CEP ed ELEA, antenati dei moderni computer, condividevano la medesima impostazione progettuale. Le differenze però non erano da poco. Se la CEP era di fatto un esemplare unico realizzato per scopi scientifici e didattici, l'ELEA era un prodotto pensato per il mercato. Standardizzazione, producibilità, facilità d'uso, perfino il design, erano elementi cruciali per il successo commerciale dell'iniziativa. I calcolatori dell'epoca erano tutti degli enormi armadi che andavano da terra al soffitto, quindi alti due metri e mezzo, incombenti. Se guardiamo invece il design dell'ELEA, era un design a misura d'uomo. Gli armadi erano alti un metro e trenta, una persona che stava in piedi, un manutentore, un visitatore, un ricercatore, dominava tutta la scena. Propulsore del progetto ELEA fu Adriano Olivetti, un imprenditore fuori dal coro, una figura unica nel panorama industriale italiano e non solo per l'epoca. Adriano Olivetti era un visionario nel senso positivo del termine, cioè guardava in avanti e vedeva che la meccanica su cui fino allora aveva vissuto Olivetti aveva, per così dire, gli anni contati. Bisognava pensare a qualcosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo era l'elettronica, l'informatica. La scelta coraggiosa fu premiata dal mercato. L'ELEA 9003 fu prodotta in 40 esemplari e venduta al prezzo di circa 400 milioni di lire dell'epoca, l'equivalente di 5 milioni di euro. I calcolatori furono installati là dove era necessario gestire ingenti quantità di dati, industrie, grandi imprese, banche, enti governativi. La macchina era capace di fare 10.000 addizioni e sottrazioni al secondo. Aveva una memoria centrale a nuclei di ferrite espandibile sino a 160.000 caratteri, occupava una superficie di 200 metri quadrati e pesava circa 10 tonnellate. A corredo dell'ELEA, l'Olivetti forniva oltre 4.000 pagine di manuali tecnici e circa 200 schemi elettrici. La notizia del primo calcolatore commerciale made in Italy fece il giro del paese. Ma mentre tutto sembrava andare per il meglio, due avvenimenti sconvolsero l'azienda Olivetti, ponendo prematuramente fine al progetto Elea. Il primo è la morte di Adriano Olivetti all'inizio degli anni 60. Subito dopo, nel 63, ci sono dei problemi finanziari per la società dovuti a una depressione del mercato mondiale delle macchine d'ufficio, per cui l'Olivetti ha un problema di cassa finanziario. Nel 1964 la famiglia Olivetti cedette l'intera divisione elettronica dell'azienda agli americani della General Electric. Con questo diciamo che tramonta il sogno di Adriano Olivetti, di un Olivetti nella grande informatica, un Olivetti che traina un settore di avanguardia, un settore trasversale a tutti i rami economici, un settore strategico a livello paese. Peccato. Ma 50 anni dopo, l'Elea 9003 vive ancora. Un esemplare del calcolatore perfettamente conservato macina numeri e formule all'Istituto Tecnico Enrico Fermi di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Questo grazie a un gruppo di professori della scuola che ha inteso farne uno strumento didattico al servizio degli allievi. Quando abbiamo pensato di rivalutare il nostro ELEa 9003, avevamo in mente fondamentalmente l'obiettivo di far entrare i ragazzi all'interno di un computer, per poter esaminare gli aspetti che a tutt'oggi sono un pochino sottovalutati, come il buffer di memoria, come tutti quanti le unità logica e aritmetiche, cose che si sa e si conoscono in teoria, ma che in pratica non si riesce mai a vedere dal vivo e veramente. Il calcolatore fu donato alla scuola nel 1972 dal Monte dei Paschi di Siena, che possedeva il secondo esemplare mai costruito. L'ISIS di Bibbiena fu selezionato in quanto all'epoca era l'unico istituto toscano per lo studio dell'elettronica e delle telecomunicazioni. L'impegno che approfondiamo nel mantenere in vita questo calcolatore è notevole, sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista personale, però il fatto che poi riusciamo a farlo funzionare, che gli studenti riescono a vedere che effettivamente questo è un calcolatore vivo e ancora al completo, o quasi al completo, delle sue funzionalità è veramente la soddisfazione più grande. Sulle LEA 9003 hanno lavorato e si sono formate intere generazioni di studenti, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, un rito che è la celebrazione delle grandimenti dell'informatica. Il ricordo del passato è sicuramente qualcosa che va mantenuto e va conservato nel tempo.